Cari amici, una buona giornata a tutti, bentornati sul canale. Oggi facciamo una sbarbata utilizzando l'ottimo Devergold Hande che appunto si presenta come una pasta di sapone duro che vado subito pertanto ad abbordire con un velo d'acqua. Poi utilizzerò per la seconda volta la lametta persona montata all'interno dell'Edwin Jagger. Già ho fatto una sbarbata, oggi farò la seconda sbarbata e poi basta. Queste sono lamette ottime, quindi due sbarbate le reggono in maniera eccellente. Quindi la persona, la Feder, la Kai sono lamette splendide che tranquillamente, volendo si può fare pure una terza, però io preferisco non esagerare perché ho sperimentato, ho provato anche a fare una terza sbarbata e ho visto che non sono soddisfatto dall'esperienza della lama sul volto. Mentre la seconda rasatura va tutto bene. Allora vado a riunire il volto e inizio il prelievo con l'Omega 48 in setola di maiale che erode facilmente appunto questo sapone olandese de Verbuldeand che ha una sensazione di fresco, di pulito che è perfetto per questa stagione calda. Allora vado a riunire Allora vado a riunire che sapone infezionale Monta che è una bellezza Oppa di acqua Allora vado a riunire Allora vado a riunire Eccezionale proprio Un sapone che mi è piaciuto che mi è sempre piaciuto perché a parte l'esperienza olfattiva ma è proprio monta proprio bene Allora andiamo Quindi Edwin Jager più persona Seconda rasatura Allora vado a riunire Allora vado a riunire Allora vado a riunire Allora vado a riunire Barba di due giorni Polverizzata Ecco qui Molto molto bene Andiamo a risciacquare Allora vado a riunire Allora vado a riunire Più di acqua E' un po' di acqua E' un po' di acqua Ecco qua Diamo di controvelo. Alla prossima. Alla prossima. Ecco qua, perfetto proprio, in maniera perfetta. Una grande, una grande latita del sol, eh? Andiamo a sciacquare. Ecco qui. Quindi, grande lametta che si è comportata anche alla seconda rasatura in maniera perfetta, ma grande sapone il De Vergoldande che veramente protegge in una maniera e facilita la scorrevolezza del rasoio sulla pelle in maniera eccezionale. Tra i saponi di fascia media, medio-bassa, come prezzo diciamo, è veramente notevole il De Vergoldande. Ecco qua. Ok, andiamo a chiudere con Epsilon, Epsilon Scottish Spirit. Che ha un ottimo profumo. Non proprio estivo, però ci sta bene comunque. Non è eccessivo, non è pesante. Fresco, tutto sombato. Un'ottima sbarbata che appunto è stata possibile grazie alla persona e al sapone che adesso vado a risciacquare. De Vergoldande. Tra le altre cose è un sapone antichissimo. Uno tra i più antichi. Ha una sua storicità. Allora, io vi saluto. Vi ricordo, qualora non siate iscritti, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo per un prossimo video.